segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te poi lei è qua perché ci aiuta a capire le cose e mi pare che stiamo che questo stiamo facendo però lei mi dice vi siete messaggiati con salvini le hanno chiesto scusa cioè da parte della lega attraverso il guardi adesso al di là delle questioni personali al di là delle questioni personali il problema è istituzionale abbiamo allora le autorità indipendenti rivendicano la loro indipendenza e doverosamente fanno il loro mestiere nell'evidenziare ciò che non funziona ma lo fanno per aiutare il governo indipendentemente dal colore che abbia e collaborano come noi collaboriamo con istituzioni di destra e di sinistra e le stesse istituzioni diciamo a volte è sbagliato stai sbagliando è un pezzo di garanzia delle nostre istituzioni che va preservato detto questo adesso c'è un codice in gazzetta quello è il codice su cui dobbiamo lavorare suggeriremo anche piccole soglie o piccoli errori che ci sono e anche i bravissimi tecnici del consiglio di stato prima e attualmente del ministero della presidenza del consiglio che hanno lavorato a questo possono aver fatto perché un lavoro complesso ora mettiamoci a lavorare perché il codice non deve essere in un campo di battaglia